andiamo a piti 30 23 ok 24 25 26 27 28 29 yes 25 29 con farusani multi poi vi chiedete perché dovete far pullare me per forza è questa ora c'è da capire da c'è dentro eccola c'è da capire da c'è dentro oddio pensavo fosse subito inizio a pregare tu prega io ogni singolo è ancora peggio così sì 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 mamma mia andiamo ok 75 così proprio così proprio ok lasci uno lasci uno a piti 11 siamo a 19 andiamo a 29 si riparte let's go no 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 ragazzi no 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 non ci credo io non ci credo non ci credo io non ci credo non ci credo non ci credo 2 o è il garantito per i prossimi io guarda non spero in niente cosa è c'è c'è bella lo spadone sacrificale molto bello ma mi segna il numero di spettatori palindromo mi segna 2662 lo devo fegnare oh è palindromo ragazzi non scherziamo ok qualsiasi cosa sia va bene vi giuro urlo basta ma che è il rate up sta cosa e niente garantito io ho visto un po' troppe cish andiamo 75 sayu 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 ok aspetta perché Albi sta scrivendo qualcosa aspetto finisca di scrivere sayu a caso 76 77 77 78 79 80 yes non ne ho sbagliato uno eccoci vai così io non guardo no anzi non guardo la luce c'è la luce c'è aiuto ok questa è la 75 la prossima è la 76 che cazzo porca miseria è paura lo stavo rinascendo l'animazione 77 77 78 79 80 sì 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 oddio ora sviene Eli Piti 20 tanto brava io lo sto tenendo sono più concentra su tenere il Piti e il suo argomentare Eli Eli aiuto 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 11 12 12 è un'altra sacrificio 13 la return anzi la spaccarocce corno rosso spaccarocce corno rosso se vuoi andare di singole alla fine secondo me nel giro di meno di una multi esce quindi se vuoi risparmiare per vedere poi seppure in altra parte no bene beh tira la multi tira la multi tira la multi tira la multi aiuto eccoci ciao astrid grazie per il follow ciao chiedito grazie per il follow ok forse potrebbe essere la prossima quella in retap sì 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 grazie Giorgia per il follow potrebbe essere la prima potrebbe essere no in realtà cioè sì potrebbe sempre essere ma non è quella in retap EIANA è morta è morta guarda Martina EIANA 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 le avevamo vinti tutti EI le avevamo vinti tutti hai entrambi i personaggi d'entrambi le armi dai un sacco di frae ma c'è un sacco la per Raiden o per usare o per chi ti fare basta I am fei però che coglioni EIANA c'è best fool ever mamma mia oh mio Dio no 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 ragazzi non ci sto ora è morta EIANA 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 sei viva è morta di qualcosa ti l'ha vissi doppio hit ok EIANA questa è la multi te pazza la firi proprio di cattiveria vai non c'è nemmeno a chi pidi sono non lo so non lo voglio sapere cosa esce ok ma che schifo ogni singola è la singola qualsiasi cosa che esce sono contenta sì sì anche io ok garantito sì quando ti dà il 5 vuol dire che ci sei no vabbè no vabbè no no vabbè no 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 scusate io urlo come una pazza tutte le volte ma perché non me la Eliana Eliana ascolta dove cazzo malca miseria ti avanzano anche un po' di pull io non so più che dire non so più che dire ti avanzano anche tipo 40 pull per i prossimi futuri figli e banner futuri non so bene cosa farai della tua esistenza sappi che hai lasci 2 di hit in nemmeno 100 pull hai lasci 2 di hit Eliana complimenti ti faccio il clap qua veramente io io lo so che volevi rubare tutto lo scuro a tempo e probabilmente ci sei riuscita si va 37 eccolo ok ok buono prima bene o male bene questa allora questa sarebbe 28 28 28 no questa è la singola 28 per arrivare poi alla 37 giusto era la terza multi questa da 7 17 27 siamo già persi siamo già persi secondo me questa è la 28 28 29 no in questa qua qua c'è ok la Eli la Eli porta la campana vediamo se la Eli ha fatto il pacco era questo il patto forse quanto pare un clausola no noi eccola meno male meno male dai non ci serve alla fine primo piti 37 il secondo intorno alla 20 è andata abbastanza bene due piti dai andiamo a 16 siamo a 16 così oh oh ok 7 7 8 9 10 11 12 12 dove sei dov'è 13 13 mazza della perfasione impronunciabile questa veramente Andrea grazie per il follow Spera Smeraldina e Tiki Tiki e fanno questa è la Eli PT1 me l'ha tirato ieri te l'ha chiamato Tignari sì non ci voglio Eliana Eliana non si fa e niente e niente comunque raga oggi siamo a 2004 nella prima ora cioè ci rischio che si superi i numeri dell'altro giorno di ieri quindi tenete d'occhio il numero voi perché io ora sono concentrato su cui le facciamo un tempo allora va bene noi abbiamo il garantito adesso quindi adesso direi che noi le tiriamo poi per il prossimo 50 e 50 rifaremo la scommessa si voi intanto vi rifate un po' di punti e noi si ripartiamo siamo a PT1 quindi con questa 11 11 11 ottimo c1 molto bene molto bene 21 sì eccolo oh e vabbè ma se si fa così ragazzi 12 si fa così 13 13 14 14 quindi 15 e 14 tighi 14 scara ando per la c1 di scaramush bravi voi spammate e noi andiamo ok potrebbe essere già la prima perché già la prima è la 77 ok 78 79 80 come la Elie che l'ha vinto no 81 oh Cristo Dio 82 82 l'ultima 84 incredibile no no 86 l'ultima non ci voglio credere 85 l'ultima 86 no vabbè finita eccolo eccolo perfetto nelle prime tre multi perfetto l'avevo detto abbracciamo anche Arce che aveva scattato un abbraccio proprio per fartelo trovare 12 grazie 13 14 19 15 no 18 17 c5 18 18 l'ho detto 18 eppure c5 ma lei l'hai finita praticamente andiamo a 32 con questa oh si no dai dai ma tutti prima oggi dai ma veramente veramente allora 23 23 24 25 prendiamo la 76 prendiamo la 76 yes meno male dai buono vediamo se è uscita prima del tempo 67 8 9 10 esci bene 76 eccolo 76 qui lo spammo mentre c'è oh perché qui c'è il 50 e 50 quindi spammate perché va vinto 71 72 siamo a scaraci 2 73 73 74 75 la prossima è la 76 ok no ma la 76 non esiste più comunque no 77 si si oh si è vinto vitalmente qua lo spammo doppio lo scaramush oh l'abbiamo vinto incredibile così andiamo a 82 ok qui doppio doppio scara doppio scara l'arco corbino 73 spavolo al che c'è lì steve o kindra grazie per il follow benvenuti in live 85 ok la prossima è la 76 questa era sì questa c'è sì scusami la prossima è la 77 ancora lei mamma mia c2 cioè io non so se tu la usi la guardi ogni tanto come mai ti vuole così bene non ne ha mai voluto fino ad oggi prima singola con la prima con questa multi ok ok eccoci qua luce blu scaramesse tanto qua è confermato magari ce ne hai due 74 75 76 ma anche 3 ma anche 4 77 78 no c'è il cane 79 scaramouche c4 ehi ragazzi siamo a 74 5 stelle potrebbe essere già la prima no 76 no 77 78 ma non è possibile ma poi ma ci sono solo loro in questo banner ragazzi andiamo oh bene meno male c5 sì 15 16 17 18 19 scaramouche suono per quanto siamo c5 teoricamente è questa 43 sì ok ok dai vinciamolo l'ultimo allora 34 34 35 35 spammate ragazzi spammate 36 dai 37 37 oddio mio 38 39 40 41 42 sì oh mio dio ragazzi il polipetto più leliana servivano incredibile ragazzi buono ma come buono stai calmo arce cristo così 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 calmo 81 no no ma magari esce prima noi ce l'ho frizzata ok si è dorata però è frizzata di nuovo ok farusanna ho visto adesso farusanna ma onda frizzata la prossima volta che davide mi dice che le condivisioni vanno bene io mi arrabbio veramente eh è la terza di questo giro di condivisioni e lagga da morire lui mi dice vanno bene tutte eccolo cioè l'abbiamo visto ora arrivare non ce lo godiamo nemmeno così e adesso l'arma ok guardatelo guardatelo mi verrà bruciata e invece no oh meno male non si brucia niente ragazzi andiamo p di 74 multi ci siamo raggio dorato ok non è la prima quindi potete rendere i punti commessa 76 yes subito 76 ragazzi subito che no non è la prima